cari amici di vacanze col cuore buongiorno e benvenuti al mio aggiornamento settimanale riguardante i lavori e come stanno andando le cose all'interno del nostro gruppo vacanze col cuore oggi mi trovo al weekend glamping resort di san felice del benaco sul lago di garda e sono qui per farvi vedere la ristrutturazione che stiamo completando all'interno del ristorante il quale è stato appunto modernizzato al quale stiamo dando una nuova identità alle mie spalle vedete il golfo di salò il lago di garda e il pizzoccolo il monte sopra salò qua la primavera è già arrivata si sta benissimo c'è un bellissimo sole e se venite come vi faccio vedere appunto l'interno del ristorante eccoci qui cari amici all'entrata di quello che è il nostro ristorante del weekend glamping resort iniziamo da questo originale tavolino creato con le cassette del vino in legno per poi passare a questa composizione di lampadari molto originale molto bella con lampadari e piante come vedete il colore delle colonne è cambiato abbiamo questo azzurro che si sposa con il nuovo colore delle delle nostre panche che sono nere ovviamente non sono ancora posizionate siamo perché siamo ancora in periodo di chiusura ma stiamo lavorando velocemente per essere pronti alla prossima apertura qui voglio farvi vedere questa simpatica creazione di questa parete sulla quale sono stati disegnati tutti i collaboratori del gruppo vacanze col cuore è il nostro slogan vacanze con noi appunto ecco qua ci vedete tutti e ogni persona è raffigurata in quello che generalmente fa e c'è anche il nostro amico spotty ora vi farò vedere la parte interna del nostro ristorante bar gelateria pizzeria e sta venendo davvero molto molto bello allora entrando dalla porta vedete la nostra gelateria con delle cementine di design e questi due lampadari quasi terminato quasi completati per poi passare al bar con questa composizione di luci e piante molto bello molto moderno ed infine voglio farvi vedere la sala da pranzo interna con questi nuovi lampadari il nostro caratteristico camino con i divani appunto con la che sarebbe l'area di relax per la bassa stagione e questo è l'angolo vineria dove abbiamo disegnato appunto tutti i tipi di vino del lago di garda e dell'italia spero che tutti questi lavori che stiamo eseguendo vi piacciano spero che siano di vostro gradimento stiamo lavorando velocemente e arduamente per preparare le vostre perfette vacanze che inizieranno fra qualche mese fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate una buona giornata da leonardo e da vacanze col cuore ciao ciao